Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti in questa serata speciale dedicati alla Terra. Buon compleanno intanto, pianeta Terra, scusaci se non siamo esattamente i migliori amici in questo periodo, però magari con il tempo impareremo a compiere insieme e ritroviamo più amici. E se tutto va bene, magari distruggiamo tutto l'ambiente terrenalino. Cosa succederà durante questa live? Cercherò di simulare in alcuni modi divertenti, più o meno divertenti, speriamo che facciamo le dita che venga qualcosa di bella, come potremo distruggere la Terra. Ora, lo farò in senso con gli altri, ovviamente, non voglio simulare i veri problemi riguardo al nostro pianeta. E quando dico del compleanno mi riferisco al fatto che domani è la giornata mondiale della Terra. E troverete uno speciale mio che ho registrato su MyPlay. Sarà verso le 10, qualcosa da solito, tra le 10 e le 11. Comunque trovate informazioni in descrizione e potete vedere tra le 11 e le 12. Tra le 11 e le 12 domani potrete vedere me che parlo dell'ambiente su MyPlay. e nel frattempo cercherò di mostrarvi alcune cose riguardo al nostro pianeta utilizzando un pochino la nostra simulazione. Si sente solo la musica. Secondo, secondo, sistema. Ora, in teoria, non dovreste più sentirla. Comunque, passando di nuovo... Ora, in teoria, non dovreste appunto sentirla. Se tutto va bene... Non c'è musica. Ok, perfetto. Scusate l'inconvenienza, scusate il problema. Dovrebbe essere tutto a posto. Ciao, bentrovati. Grazie di essere così numerosi. Grazie ancora per essere venuti. E se tutto va bene, insomma, il resto della serata lo dedicheremo a cose che esplodono. Iniziando con la nostra simulazione. Ora passo alla pratica. Entriamo nel simulatore. Prima volevo solo farvi salutare anche da Omero, come sempre, qui insieme a noi. Saluta tanto. Per tenere d'occhio le vostre domande e farmi compagnia in queste serate di distruzione totale su Universe Sandbox. Ok, passiamo al programma. Eccoci. Ok. Ora dovrebbe essere tutto a posto. E questo che vedete è il sistema solare. Faccio un'ultima verifica giusto per essere sicuro che tutto va bene. Ok. Eccoci qua. Così almeno nel frattempo riesco a vedere anche le vostre domande e rispondere anche alle vostre curiosità. Perfetto. Allora. Visto che siamo a posto possiamo iniziare... Sì, iniziare. Iniziare la nostra simulazione e partiamo dalle basi, basi, basi. In realtà Universe Sandbox, per quanto lo adori, è stato aggiornato varie volte in cui hanno aggiunto e tolto cose. Nel tempo, per esempio, ci sono delle feature che mi piacevano molto che ora purtroppo non ci sono più. Come per esempio la possibilità di simulare anche il clima. Quindi un tempo avrei potuto farvi vedere come cambia il clima terrestre al cambiare per esempio della CO2. Ora invece quell'opzione non c'è più. Quindi non potrò mostrarvi quello purtroppo. Ci divertiremo a parlarne in altri modi ma insomma vedremo cosa si può fare con la Terra per il resto. Mi sarebbe piaciuto perché è un modo pratico per vedere qual è la differenza che si vede immediata nel cambiare la quantità di CO2 sul nostro pianeta. Questa è una rappresentazione simulata del nostro pianeta in scala, tutto quanto fila per quanto riguarda le caratteristiche di base. E qui vedete anche una rappresentazione della sottile atmosfera che circonda il nostro pianeta. Ora, giusto per dire due o tre cose sulla Terra, sulla situazione attuale climatica e quello che avrei voluto simulare ma purtroppo non si può perché non c'è più la feature su Universe Handbox. Noi abbiamo notato nell'ultimo secolo che il pianeta si sta riscaldando. Cosa significa con il pianeta si sta riscaldando? Cioè i misuratori sia sul pianeta, in vari posti, da oceani, montagne, città, ovunque, sia nello spazio, hanno misurato la temperatura media sulla superficie e nell'atmosfera e oceani della Terra per l'ultimo secolo. E abbiamo visto che sta piano piano aumentando, ok? È già aumentata di più di un grado Celsius, in media ovviamente, si fa una media delle temperature tutto l'anno e poi si vede come cambia di anno in anno. E sta continuando in questo senso. Ora, da dove può venire questo calore extra? Cioè noi sappiamo proprio empiricamente che il pianeta si sta riscaldando, quindi guardiamoci intorno. Che c'è intorno? Beh, le stelle sono troppo lontane, quindi quelle probabilmente no. Ma c'è una stella in particolare che è molto vicina ed è il Sole. Magari è colpa del Sole. Ora, abbiamo lanciato delle sonde per guardare come cambia il flusso di energia che arriva dal Sole. E abbiamo notato che in realtà non è cambiato quasi per niente. Abbiamo misurato la quantità di macchie solari che sono correlate a quanta energia arriva dal Sole. E il Sole non sta facendo niente di strano nell'ultimo secolo. Quindi da questo punto di vista è tutto molto tranquillo e sciallo. Quindi c'è qualcos'altro. Se la quantità di energia che arriva dal Sole non è cambiata e non viene da fuori, magari viene da qualcosa sulla Terra. Magari, che ne so, ci sono molti più vulcani. Beh, abbiamo guardato anche quello e anche i vulcani sono abbastanza nella linea. Però poi dopo è diventa interessante perché i scienziati già dalla fine dell'Ottocento avevano notato una cosa riguardo al cambiamento climatico e il modo in cui può cambiare il clima nel tempo. Già c'era un grande dibattito nell'Ottocento riguardo alle ere glaciali. L'idea che il pianeta potesse essere circondato da ghiacci e che ci fossero ghiacci fino alle parti più basse dell'Europa era ancora tutta nuova questa idea che noi ora accettiamo come era glaciali e all'epoca era sconvolgente. Qui vedete le stesse dei ghiacci al momento, questo è durante l'inverno, insomma arrivano, anche al Polo Suzie arriva, qui c'è l'Antartide. Però ecco, durante l'emisfero nord ci sono ghiacci, durante, scusate, anche l'estate ci sono ghiacci anche permanente all'emisfero nord. Questa cosa non quadrava molti e molti pensavano che fosse strano che ci fosse così tanto ghiaccio e hanno iniziato a dibattere riguardo alle ere glaciali. In quel periodo qualcuno ha notato che l'atmosfera può fare da effetto serra. In pratica cosa succede? Quando arriva il calore dal sole, arriva sulla Terra e una parte di questo calore non può sfuggire perché viene intrappolato dall'atmosfera. E' un po', beh, lo notate anche voi entrando letteralmente in una serra, è così che funzionano le serre intrappolando parte del calore. Però lo potete notare anche stando dentro una macchina, per dire. Quindi, da questo punto di vista, avere un involucro che blocca parte del calore è quello che ci mantiene vivi. Però l'atmosfera può bloccare più o meno calore in base alla sua composizione. Non tutte le molecole presenti nell'atmosfera bloccano il calore allo stesso modo, l'energia non la intrappolano allo stesso modo. Dipende da come le molecole assorbono, poi rilasciano questa energia. E questa cosa è avvenuta alla fine dell'Ottocento perché cosa nasceva in quel periodo? La chimica. Quando è nata la chimica ci siamo accorti di vari comportamenti di tipi diversi di molecole composte. Quindi questo ha cambiato il modo di pensare alla composizione chimica dell'atmosfera. E avevano già notato che se guardiamo la composizione di base, molti dei gas più o meno sono stabili. La quantità di ossigeno, la quantità di vapore acqueo per esempio, più o meno, quelli sono. Però c'è un gas che varia, che se varia anche di poco, può cambiare molto il clima, che è l'anidride carbonica. E l'anidride carbonica poi dopo è correlata al cambiamento della quantità di calore intrappolato. Ora, cos'è che noi abbiamo fatto in tutto quest'ultimo secolo che potrebbe aver alterato la composizione dell'atmosfera? Abbiamo bruciato un sacco di carburanti fossili. Ma tanti! Una quantità enorme! Miliardi e miliardi di tonnellate all'anno! Per un secolo! Tutta quella anidride carbonica extra rilasciata nell'atmosfera ha fatto sì che il pianeta intrappolasse più calore all'interno. E questo ha cambiato molto anche poi dopo le dinamiche dell'atmosfera. Quindi ha spento, per esempio, molti ghiacci a sciogliersi perché più era caldo in periodi in cui normalmente non lo era. Ha cambiato l'acidificazione degli oceani perché tutto quel carbonio è finito poi dopo negli oceani stessi. E un mondo più caldo fa sì che l'acqua si espanda di più perché se è più calda si espande. Un fluido più caldo tende a fare quello. Quindi abbiamo visto l'inalzamento dei mari. A questo si aggiunge ovviamente in parte anche tutta l'acqua dolce dei ghiacciai che poi dopo finisce ovviamente nei mari. E quindi quello che abbiamo scoperto che sta succedendo al nostro pianeta un secolo fa, non ora, è che man mano che noi bruciamo carbonati fossili noi stiamo alterando la composizione dell'atmosfera e stiamo intrappolando più calore. E può sembrare poco un grado ma in realtà si tratta di un intero grado in media per tutto quanto il pianeta. Significa che molta, molta più energia rimane nell'atmosfera e nei oceani. E questo può portare a fenomeni molto più estremi perché da qualche parte quell'energia deve andare e quindi si traduce in uragani molto più intensi. Ed è per questo che sono tutti così allarmati. Se vi sembra terribile la pandemia, il cambiamento climatico è molto molto peggio di così. Su scala globale e non per due o tre mesi in casa. Per potenzialmente decenni, secoli futuri. Solo che non arriva in una botta. Non è una cosa che da un giorno all'altro succederà. Non è rapida come una pandemia. È molto più piano e stesa nel tempo. E quello è il pericolo. Noi non siamo granché assolutamente a valutare rischi a meno che non siano immediati e grossi. Se compare un orso a casa vostra, ve ne accorgete del rischio che gli orsi possono mangiarvi le chiappe. Se però dopo c'è una minaccia che forse è possibile che la quantità di orsi nel mondo cambino l'esito di, che non so, la quantità di farina che avrete, boh, chi se ne frega. È molto più astrato, è molto più lontano, quindi non vi riguarda. E però sono quelle le cose a cui rischiamo di non fare abbastanza attenzione e che poi dopo causeranno disastri enormi sulla Terra. Perché dico questo? Perché in realtà può sembrare poco, no? Vabbè, è leggermente più caldo. Però non pensiamo mai alle conseguenze su vasta scala. Se abbiamo un mondo più caldo, in cui ci sono molte più siccità, abbiamo molte più difficoltà a mandare avanti l'agricoltura e nutrire 10 miliardi di persone come ci siano alla fine di questo secolo. Riguarda l'inalzamento dei mari e tutte le città che vivono sulla costa, riguarda la forintura di acqua pulita, riguarda la perdita di abitati e diversità animale, specialmente per l'impatto, diversità in realtà di tutte le specie, specialmente visto l'impatto che questo cambiamento di temperatura può avere su ambienti già ecosistemi, già fragili, e questa è solo la punta dell'iceberg, perché cambierà veramente in tanti modi che non riusciamo a prevedere. Le conseguenze saranno drammatiche e è un po' come giocare a un castello di carte. A un certo punto a te sembra solo una carta da togliere e non ti sembra così drammatica la situazione, finché poi, tolta quella carta, si crea un intero effetto domino che fa cadere tutto il resto. È quello che spesso sottovalutiamo. Quindi questa serata, ora avrei dovuto fare tutto questo discorso facendovi vedere in simulazione tutto questo, ma a me non c'è più la funzione. Però, insomma, questa serata è più cacciarona, ci divertiamo a fare esplodere cose, però ricordatevi che al di là di questo c'è concretamente un problema serio e se noi riusciamo a sfruttare questa esperienza che abbiamo fatto di reagire a un problema globale tutti insieme, sentirci coinvolti tutti quanti per affrontare anche il cambiamento climatico può essere molto più positivo per tutti quanti alla lunga, perché possiamo avere tutti insieme un modo per avere un coinvolgimento globale intorno a problemi. Quindi non reagire a ogni paese per sé, non fare le cose un po' come ci pare, ma reagire tutti quanti insieme. Beh, fine dello sfogo. Lo so, mi riscaldo tanto quando si parla di riscaldamento globale, ma specialmente perché riguarda moltissimo tutti ed è un peccato che quelli che protestano per la maggior parte in questo momento spesso sono le generazioni più giovani e molti di quelli che hanno il potere decisionale sono quelli più grandi e tendono a ignorarli. Lunga storia. Ora, quali sono le migliori soluzioni? Si può dibattere, si può parlare sul modo in cui possiamo affrontare la questione, ma non sull'urgenza, non sul fatto che sia un problema da affrontare. Quindi finché non viene vissuto come una cosa da affrontare subito, le viviamo un po' come una cosa da... un po' alla meglio, no? Insomma, quella soluzione troveremo. Ad ogni modo, tornando a noi, questo dicevo è il mondo e ora proviamo in qualche modo, finito questo discorso, a distruggerlo. E noi stiamo facendo del nostro meglio, cambiando il clima, ma questo non altererà quasi per niente quello che succede globalmente sulla Terra. Quindi più o meno la Terra rimarrà esattamente lì com'è e non cambierà. Proviamo però a vedere se riusciamo a distruggerlo con un asteroide, no? perché a tutti verrà in mente magari di far schiantare contro un asteroide, quindi vediamo che succede. Prendiamo un oggetto piuttosto grosso, perché un asteroide piccolo magari... sappiamo già che non cambierà molto, ma vediamo qualcosa di più grosso. Per esempio, cosa succederebbe se un oggetto delle dimensioni della cometta di Ale, di 5 km, un po' piccolo, un oggetto enorme, gigantesco, di 520 km, come Sedna, che è un pianeta nano ai confini del Sistema Solare, colpisse la Terra. Questo di sicuro... Ora, un asteroide... Guarda, ve lo faccio vedere giusto per curiosità. Quindi facciamo... Se un asteroide come Apophis, di 160 metri, colpisce la Terra, Apophis è molto, 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 molto piccolo. Ok, quindi... Facciamo che colpisce... nella zona d'Italia. Eccolo qua. È già sparito? No, eccolo. Ok, siamo lì con il nostro piccolo asteroide che si sta avvicinando all'Italia. Avviciniamoci un pochino più rapidamente. Eccoci. E vediamo come succede. Ora, questo è un asteroide di circa 160 metri. Tempo fa si vociforava che ci avrebbe colpiti. Poi abbiamo scoperto che in realtà non c'è rischio. Non colpirà la Terra. Ora siamo piuttosto sicuri che Apophis non rappresenta più un rischio per la Terra. Però, quando fu scoperto, ancora c'era molta incertezza intorno alla sua traiettoria per cui inizialmente sembrava potesse colpire la Terra. Sta andando verso il più o meno... Eh, il sud Italia. Vediamo quale parte dell'Italia colpirà. Speravo il Veneto, ma in realtà non credo arriveranno al Veneto. Ciao a tutti al Veneto. No, forse Golfo di Napoli, Roma. Abbassiamo, abbassiamo, abbassiamo. Uh, forse Centra Italia. Forse... Abruzzo? Ecceleremo un pochino le cose. Vediamo se sopravvivono. Asteroidi così piccoli, quando entrano nell'atmosfera, per l'attrito, perdono una buona parte della loro massa ed energia attraversando l'atmosfera. Quindi, solitamente pochi creano grandi crateri o danni. Oh, no, no, no. Alla fine finisce nel Mediterraneo. E... Ha colpito. Ha colpito. E quella che si propaga è l'onda d'urto gigante nell'atmosfera che continuerà probabilmente ad avvolgere tutta l'Italia. Per cui verrebbe coinvolta. Come vedete, ora, non fate caso che la simulazione la fa sembrare quadrata. In realtà, ovviamente, non sarebbe un rettangolo quadrato. Però ci sono, vedete qui, anche dei frammenti che si sono staccati. Frammenti anche di 40-50 metri che stanno ricadendo in varie parti d'Italia. E questi frammenti potrebbero causare danni quando cascono sul pianeta. ma in realtà il grosso del danno in Mediterraneo, a parte questa onda a temperatura altissima che stravolgerebbe l'intera Europa, però, abbiamo tsunami. Per cui aspettate, in questo caso, enormi tsunami che avrebbero travolto tutta l'Italia. si, ha colpito più o meno vicino al centro Italia. Insomma, comunque, la Sardegna è andata, Cagliari è andata, Roma è andata, sicuramente. qui l'onda continua a propagarsi piano piano. È diventato un ottagono. Ottagono. E continua. Ora, questo è stato a energia relativamente bassa. Vediamo la temperatura a cui siamo arrivati. Non c'è segnato. Vabbè. Comunque, insomma, non abbastanza da distruggere la Terra a questa velocità. Se vi ricordate la scorsa simulazione in cui abbiamo parlato di cosa succederebbe a schiantare insieme Giove e Saturno, abbiamo visto come in realtà dipende molto anche dalla velocità dell'oggetto. Quindi, in questo caso, velocità bassa significa meno energia per trasportare. Qui vedete i vari frammenti che si stanno allontanando nell'atmosfera e continuano a colpire. Eccoli qua. Secondi, terzi, quarti impatti. Eeeeh, sì, buona parte dell'Italia continua ad andarsene con continui impatti rapidi di frammenti di Apophis. Questo è il motivo per cui molti sono così generamente preoccupati che un asteroide anche di dimensioni come Apophis possa colpire la Terra. Non è mai una buona idea lasciarli là fuori liberi di colpirci. Quindi si cerca di evitare. Il problema è che ci sono potenzialmente milioni là fuori intorno ai 140 metri o meno che non abbiamo ancora trovato. Ora, se sono molto meno non è un rischio. Ma già 140, 160 metri come questo lo sono. E qualcuno potrebbe essere diretto verso di noi e noi non lo sappiamo. Ed è una fregatura perché basterebbe lanciare più missioni per monitorarli e invece invece no. Ok. Allora, proviamo con qualcosa di più grande. Proviamo a lanciare contro la nostra buona Terra Plutone. Ora, di sicuro con un corpo delle dimensioni di Plutone di 1186 chilometri in raggio quindi più di 2300 chilometri da parte a parte potremmo farcela. Lanciamo Plutone contro l'Italia. qui. Ok. Ora, probabilmente è tempo di arrivare fino a la Terra. Probabilmente la Terra girerà un pochino quindi magari si salverà. Plutone sta arrivando a 4-5 chilometri arriverà probabilmente colperà intorno a 6-7 chilometri al secondo la Terra. E vediamo che succede. Tanto una bellissima eclissi e poi sì l'Europa è andata. Sì, direi che è un bel pezzo del pianeta ora è in fiamme. Qui vedete continui impatti di frammenti in realtà dall'altra parte del mondo e ci sono molti 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 frammenti che stanno lasciando la zona dell'impatto. Qui sono simulati come delle palline sono quasi tenere ma in realtà sarebbero molto meno tenere di così. Sandro Nicolini Shai ci farà una diretta. Ciao Shai sì spero di sì sarebbe bello un ultimo ultima diretta di Shai durante Breaking Italy durante l'arrivo dell'asteroide. ma probabilmente in qualche modo aveva già dato il bacio della morte a riguardo quindi mi immagino quando gli scienziati dicono che hanno scoperto un asteroide lui sarà il primo a dire ma vuoi vedere che colpisce la Sardegna? Allora intanto l'asteroide ha colpito la Terra ma come notate non è che abbia spostato a queste velocità granché niente in realtà un oggetto di queste dimensioni come sempre riprendete queste simulazioni con i loro limiti le usiamo più che altro per raccontare come potrebbe essere quindi vi raggiungo io i dettagli di come sarebbe in realtà un impatto del genere farebbe tremare e scuotere l'intero pianeta fino alle middol fino ai continenti ci sarebbero travolgimenti enormi con l'intera atmosfera che diventerebbe incandescente per questo impatto la quantità di energia che viene scaricata e sì la crosta terrestre diventerebbe più o meno magma quindi non sarebbe così piacevole qui la maggior parte del mondo sembra che non se la sia vissuta così male vedo ancora luci accese in altre parti del mondo il Giappone guarda lì sta cavando alla grande stanno ancora giocando mentre l'Europa non c'è più in realtà no ovviamente anche perché un impatto del genere causerebbe dei terremoti che sfacerebbero sfacerebbero distruggerebbero distruggerebbero completamente tutto il mondo dipende anche dalla velocità e poi chiaramente se l'impatto è abbastanza veloce molta dell'atmosfera avrebbe spinta via per cui avresti 20 supersonici e poi parte dell'atmosfera potrebbe lasciare completamente il pianeta per cui quello che rimane della Terra potrebbe essere molto privo di atmosfera infatti vedo che qui comunque c'è veramente poca dell'atmosfera e l'acqua delle coste si sta evaporando perché la temperatura media sulla Terra sta aumentando al momento è intorno a 8600 gradi Celsius se considerate che la temperatura sulla superficie del Sole è di circa 5500 gradi qui è abbastanza caldo quindi nella zona dell'impatto qui mi raccomando in questa zona crema solare almeno ok però comunque non abbiamo distrutto la Terra se era quello il nostro obiettivo abbiamo fallito ora facciamo una nuova simulazione in cui simuliamo solo la Terra per quello che ci serve per quanto riguarda gli impatti e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di un pochino più drammatico è sanguinolente se riusciamo a lanciare un oggetto ad alta velocità quindi vediamo lanciamo contro Marte se riusciamo a lanciare contro direttamente Marte di sicuro potremo distruggere la Terra in maniera più spettacolare no? allora questa cosa è in parte già successa un oggetto di dimensioni simili a Marte ha colpito davvero la Terra quando ha creato la Luna circa 4,4 4,5 miliardi di anni fa per cui sì faremo un prequel di quel stesso impatto colpiamo colpiamo i Stati Uniti facciamo finta di essere in un in un film disaster movie anche se a questa in questo caso non è che cambia molto perché qualsiasi parte viene colpita poi è comunque la fine per tutto quanto per tutti sul pianeta ok? i due pianeti si stanno piano piano avvicinando si amano tanto sulla Terra e in questo momento ora qui non viene simulato un sole ma insomma ci sarebbe un'eclissi incredibile con Marte che si vedrebbe enorme nel cielo esattamente come nei film di fantascienza non ci sarebbero quelle cose che vedete spesso nei film in cui le persone volano verso l'alto perché vengono attratte da la gravità di Marte e quello non succederebbe fino a molto tardi quando in realtà pezzi interi della crosta vengono deformati quindi piuttosto notereste terremoti interi mentre parte dei continenti vengono appunto attirati gravitazionalmente si creano effetti di marea all'interno verso Marte i due pianeti girerebbero uno contro uno intorno all'altro per inizierebbero rivolgersi uno verso l'altro poi dipende dalla velocità e sì qui ci stiamo muovendo a 7-8 km al secondo e bacio della morte tra 2-3-1 le atmosfere sarebbero le prime a entrare in collisione e a quel punto entrambe le atmosfere diventerebbero incandescente Marte ha le stesse come vedete una sottile atmosfera e eccoci la temperatura è diventata incandescente questo è tutto il resto dell'atmosfera che viene ionizzata intorno e quindi si crea una palla incandescente di tutta l'atmosfera che viene lanciata via questo perché gli atomi che sono più caldi semplicemente si muovono più velocemente a un certo punto gli atomi dell'atmosfera diventano così caldi che quando si muovono non è che si muovono solo un pochino nell'atmosfera no lasciano del tutto la gravità della terra e fugono nello spazio da quanto si muovono velocemente quindi stiamo letteralmente perdendo tutta l'atmosfera nello spazio in questo momento beh una parte e la temperatura è di 28.000 28.000 gradi celsius wow tutte le volte mi stupisco perché so che le temperature sono alte ma mio dio non c'è niente che sopravviverebbe a queste temperature neanche non so neanche quante sostanze chimiche sopravvivono a temperature così alte e si questo non si chiama evento di estinzione a questo punto è un evento di sterilizzazione completa di tutto il pianeta terra non sopravvive neanche un microbo a un impatto del genere non c'è niente non puoi scappare non puoi fare niente l'intero pianeta avrebbe semplicemente avvolto magma e lava qui vedete un sacco di frammenti grossi anche perché molti di questi frammenti hanno da 300 ai 200 km in diametro Ruggero Tardivo saluti da Marta Mirko ed Emma della scuola Mazzini di Piacenza ciao a voi ciao un abbraccio grosso e ciao a tutti della scuola di Piacenza ciao a tutti di Piacenza in generale ma in particolare a Marta Mirko ed Emma vi abbraccio e si continua a piovere fuoco e fiamme sulla terra e vi saluta tanto anche il buono Mero qui teni d'occhio i commenti avvisami nel frattempo sulla terra a parte che qui le luci vedo che le altre persone continuano a festeggiare arriveranno i frammenti che sono arrivati dall'altra parte ora in un contesto reale di nuovo l'altra parte della terra sarebbe completamente a pezzi in questo momento quindi la distruzione non si concentrebbe subito solo su un lato solo però continuiamo a vedere cosa succede come viene simulato qui vedete una continua pioggia di frammenti che continuano a colpire il nostro pianeta causando distruzione ovunque questo è il cratere rimasto la gravità della terra attira parte di questi oggetti vediamo se qualcuno è finito in orbita sì queste sono le orbite create temporanee dei oggetti finiti intorno alla terra quindi qui vedrete tutte le orbite temporanee ci sono impatti ovviamente degli altri oggetti altri nuovi frammenti che si creano piogge dappertutto e continua a essere drammatico ma non quanto speravo dobbiamo fare di meglio ok sì abbiamo sterilizzato la terra però in realtà poteva essere anche molto peggio abbiamo provato con plutone che è a base acqua cioè una buona parte è ghiaccio di acqua abbiamo provato con marte che è più roccioso e quindi l'impatto è stato molto più drammatico ma ovviamente marte è anche molto molto più grosso ma secondo me possiamo fare di meglio non tanto per dimensione ma appunto come dicevo sempre giocando con la con la velocità intanto purtroppo non siamo riusciti a creare delle lune ma siamo riusciti a creare a parte abbiamo creato temporaneamente milioni di lune intorno alla terra ma siamo riusciti a creare degli anelli guardate quanto che bello cioè viene quasi voglia di farlo solo per immaginare che cielo potremmo avere immaginate a quante lune potremmo dare nomi c'è qui una temporanea luna che finirà però per colpire la terra dove eccolo qui questo frammento era quasi finito in orbita è un frammento di 98 chilometri e si sta avvicinando per colpire la terra peccato eri c'eri quasi a diventare una luna e vabbè ora ti schianterai sulla terra effetti speciali ok quindi abbiamo fatto in realtà una cosa abbastanza bella devo dire sono piuttosto orgoglioso dall'effetto speciale abbiamo creato una stellina abbiamo l'effetto è sicuramente figo però sono deluso perché non siamo riusciti a creare una una terra cioè una terra di lava o almeno non siamo riusciti a distruggere la terra come speravo quindi facciamo nuova simulazione anche se l'effetto era molto bello sono molto orgoglioso nuova simulazione terra tranquilla guarda come se la cava bene ok e ora proviamo a fare qualcosa di diverso prendiamo marte lanciamo contro chiamiamo la velocità scorre del tempo e ora che abbiamo lanciato contro marte vediamo avviciniamoci un pochino ok proviamo ad aumentare la velocità a cui marte arriva per colpire la terra questo vedrete che cambierà molto perché semplicemente c'è molta molta più energia che verrà trasferita in meno tempo quindi invece di arrivare lì a 7-8 km al secondo proviamo ad arrivare a 10.000 km al secondo sì ok e vediamo che succede diminiamo il tempo siamo a frazioni di secondo al secondo perché se no ci perdiamo tutto 10.000 km al secondo sono una iniziano ad essere anche una frazione importante della velocità della luce che è di circa grosso modo 300.000 km al secondo quindi piano piano ci stiamo avvicinando e vediamo che succede qui nel frattempo sulla terra se la cavano bene probabilmente stanno facendo i loro ultimi saluti le ultime cose voi cosa fareste sapendo che Marte sta arrivando 10.000 km al secondo per colpirvi come festeggereste c'è gente che probabilmente si sta vestendo con maschere da gas e latex o altre cose improvvisate insomma ognuno si la vive come può ma probabilmente nessuno sta scappando questo perché invece di investire soldi per creare una flotta di navicelle spaziale per metterla al sicuro no abbiamo preferito spendere i soldi per yacht e altre cavolate qui sulla terra quindi è pieno di miliardari che hanno decine di miliardi di euro da parte ma nessuna navicella spaziale quindi c'è un solo miliardario al momento che ha una navicella spaziale in grado più o meno beh in realtà no sta esplodendo ma insomma Elon Musk e Jeff Bezos sono gli unici due che stanno investendo di miliardari che stanno investendo grosse somme in campo spaziale quindi loro magari se la cavano ok Marte sta arrivando sempre più velocemente e vi ricordo che ora la simulazione è molto 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 rallentata ma sta arrivando a 10.000 km al secondo quindi ora siamo quasi alla velocità alla distanza dalla scusate dalla stazione spaziale e fine ok ha colpito la terra e sta letteralmente muovendo la terra quindi wow l'energia è così tanta che l'intero pianeta è diventato fino oh mio dio cosa abbiamo fatto 23.000 22.200 siamo a oddio non riesco a vedere da qui più di un milione eravamo più di due milioni di grado di celsius what a questa temperatura siamo iniziamo a essere simili a quella della corona solare o tipo parti della parte sotto la superficie del sole e si sono staccati interi pezzi grossi è bello perché a questa velocità i colpi non fanno in tempo a disintegrarsi del tutto da quanta energia c'è e i pezzi che si sono staccati sono piuttosto giganti da 2.900 km dei pianeti nani si sono staccati wow ok la terra ha perso un bel pezzo ora siamo partiti da un diametro di 12.000 km siamo a 6.300 km e sia Marte che la terra sono piuttosto mal ridotti e incredibilmente caldi la temperatura è ancora poco sotto un milione di gradi quando l'ho vista non riuscivo a credere che è così alta wow e i due pianeti continuano a essere in un bacio mortale chissà dove abbiamo colpito non ho neanche guardato che continente era ora non si nota più questa era l'Asia forse era l'Europa non lo so continua il bacio della morte e somiglia un po' a quello che c'era successo con Giove e Saturno se vi siete persi la vecchia puntata di martedì scorso abbiamo cercato di distruggere in vari modi Giove e Saturno tra di loro e vedere chi la spuntava e si abbiamo temperature così alte che sono quasi fuori dallo spettro ottico e vediamo se aumentiamo la velocità stanno continuando a ruotare tra di loro meraviglioso meraviglioso è la cosa più hot che potrete vedere su YouTube Italia me la censurano per porno Mauro Sandrini chiede se un oggetto invece di colpire la terra passasse vicino quanto grande e a che distanza dovrebbe passare per creare danni poi ve lo vediamo magari per creare danni di sicuro dipende molto da quante grande quelle velocità ora non credo che qui verrebbe simulato molto bene ma se l'oggetto che passa non è molto veloce potrebbe finire temporaneamente in orbita intorno alla terra e poi piano piano perdere pezzi che cadono sulla terra e causare danni grossi altrimenti potrebbe passando vicino causare danni per via di maree sconvolgimenti di quel tipo qui i due oggetti in realtà continuano a ruotare a temperature altissime e vediamo chi la vince e si marte è stata inglobata dalla terra maledizione non siamo riusciti a far fuori la terra in realtà ha raggiunto una temperatura così alta al momento oh aspetta 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 forse no ah per qua cavolo ero convinto che ce l'avevamo fatta distruggere la terra abbiamo creato una nebulosa a temperature altissime intorno ma no non siamo riusciti a distruggere la terra la terra che ora ha una temperatura di circa 4 è freddissima 4200 molto del calore è stato disperso attraverso la nebulosa che abbiamo creato intorno che già di suo è bellissimo siamo riusciti a creare degli anelli siamo riusciti a fare una nebulosa ancora la terra però è lì non siamo riusciti ancora a distruggerla neanche colpendo marte a 10.000 km al secondo però ovviamente a questo punto non ci sono continenti non c'è niente del genere la skin usata per la terra cioè la grafica di default usata nel programma per la terra è comunque solo quella con i continenti un tempo c'era la possibilità di cambiare si vedevano cambiare i continenti la forma eccetera dopo gli impatti ma anche quelli ahimè l'hanno tolta quindi al momento credo non lo simulino più per cui se la temperatura sta continuando piano piano a scendere probabilmente piano piano la terra tornerà non dico abitabile ma comunque camminabile camminabile esiste dovrebbe esistere è un posto dove puoi camminarci sopra ora facciamo una nuova simulazione e proviamo qualcosa di più drastico ora potrei lanciare di nuovo marte contro la terra per distruggerla ok però invece di lanciare marte contro la terra per distruggerla proviamo a fare qualcosa del genere lanciamo dove è dove si anzi facciamo così mettiamo qui giove il buon giove con tutta la sua atmosfera eccetera in realtà intorno avrebbe un sacco di lune gli anelli però mettiamoci solo la terra giusto per semplicità e facciamo distruggiamo la terra mettendo scusate sto morendo mettendo la terra vicino in orbita a una distanza di quanto vicino facciamo cento centoventimila chilometri dovrebbe bastare facciamo meno circa centomila chilometri ora in realtà devo diminuire perché se no l'effetto è troppo veloce ho visto che alcuni chiedevano perché hanno tolto le feature quella è una bella domanda non lo so non te lo so dire neanche io ne hanno aggiunte tante altre per cui credo stiano ancora cercando un equilibrio tra quello che il program può fare man mano magari le riaggiungeranno in futuro o quantomeno spero allora aggiungiamola a circa cento chilometri centomila chilometri ok ora a questo punto la vista di sicuro della terra sarebbe bella e queste cose spesso le vedete anche nella fantascienza riprese del genere con il gigante gassoso enorme e la luna abitabile sono molto improbabili in realtà perché non conosciamo lune intorno ad altri pianeti fuori dal nostro sistema solare che siano abitabili o che siano comunque così grandi però potrebbero esistere però è un po' più difficile che siano come la terra potrebbero essere in realtà molto più piccole o comunque bombardate da asteroidi eccetera quindi sarebbe un po' più difficile avere un pianeta così bellino e tranquillo così vicino a un gigante gassoso in questo caso comunque il pianeta la terra è così vicino a giove che l'effetto di marea inizia a non creare soltanto delle maree nelle acque come succede tra la luna e la terra e il sole ma inizierebbe a sconvolgere l'intera struttura interna della terra quindi creerebbe delle maree che squisciano termine tecnico l'intero pianeta fino a trasformarlo in una parra di lava facciamo un pochino più veloce vediamo se succede e a che velocità così le temperature stanno piano piano aumentando per via della marea siamo a 21 22 gradi celsius il processo è un pochino lento però di sicuro nel frattempo gli umani si godrebbero una bella vista di giove eccolo qui ora sta passando molto velocemente perché sto simulando molto velocemente quello che succede per vedere gli effetti più gore ma vediamo 29 30 gradi celsius a questo punto non ci sono più i ghiacci e la temperatura continua a salire sempre per questo effetto di marea nel frattempo sulla terra vedo che almeno questa simulazione se la cavano era grande nonostante sia la temperatura media sia invece di 13 40 gradi celsius ancora le città piene guarda lì l'italia piene di luci ah incoscienti quasi 50 gradi celsius grazie di cuore per la donazione intanto a francesco grasso ti abbraccio fortissimo 55 gradi 56 e a Tom Mezzors che chiede no dice niente di meglio di un po' di sana distruzione di martedì sera sono d'accordo d'altronde martedì è il giorno dedicato a Marte quindi rendiamo onore alla divinità più sanguinosa sanguinaria intanto siamo a 50 gradi celsius e non ci sono più ghiacci anche l'antartide è quasi del tutto sciolta non c'è più ghiaccio sulla terra quasi da nessuna parte e si l'atmosfera a questo punto abbiamo vasti oceani l'oceano si sta spandendo ci sono pezzi di coste che stanno sparendo il mediterraneo dovrebbe unirsi con l'atlantico tra poco siamo a 90 gradi celsius 100 gradi celsius ormai quasi tutto sulla terra è morto probabilmente e le temperature continuano piano piano a salire è una morte un po' lenta questa devo dire che insomma c'era di meglio ma c'è un film in cui la terra deve sfidare giove da vicino e prima o poi le recensirò si chiama wandering earth in cui gli umani nel futuro per evitare che vengano distrutti dalla o beh morire per via della sole che sta raffreddando troppo velocemente creano dei motori giganteschi sul lato della terra rallentano la rotazione terrestre e poi l'accelerano verso un'altra stella per portare la terra in orbita intorno a proxima centauri usando pezzi della terra stessa come carburante che è un'idea terribile perché arriveresti lì con una frazione tipo 1% della massa della terra quindi non so cosa è salvato della terra ma vabbè però a un certo punto passano vicino a Giove e si accorgono che non avevano preso in considerazione l'effetto di Giove e finiscono per rischiare di cadere su Giove e c'è questa scena meravigliosa in cui escono fuori con i fucili e sparano contro Giove c'è uno dei tipi nel film che dice maledetto Giove e niente capolavoro trash non lo consiglio però se lo volete se volete soffrire no in realtà è fatto cioè a livello grafico non è male non è che recitano malissimo quindi il film è un film di fantascienza però la parte scientifica dietro wow intanto anche gli oceani stanno iniziando a evaporare per via delle delle temperature ma questa questa morte è lentissima acceleriamo un po' le cose le temperature 200 214 gradi oh oh no ci siamo persi no per un pezzo ok sapevo che avrei rischiato di perdermi ma comunque abbiamo creato un sacco di nuove lune intorno a Giove e della terra è rimasto un solo frammento di 4960 km comunque piccolino e che passa molto vicino a Giove dove sei dove sei dove sei eccolo qua passa vicino si quindi ad ogni passaggio ravvicinato probabilmente le forze di marea comunque continuerebbero a staccare pezzi nel frattempo ci sono un sacco di lune intorno a Giove ma sono stati bravi questi oggetti che vedete lanciare fuori se ne vanno proprio fuori da Giove ma si alcuni alcuni frammenti della terra sono diventati sicuramente delle belle lune no guarda che bello la luna abbiamo creato una luna abbiamo creato una mini luna temporanea intorno alla terra grande quanto 1260 km beh niente male si molto inclinata quindi sicuramente vero vero delle stagioni spettacolari tra l'altro a proposito di questo i giganti gassosi hanno numerose lune abbiamo perso un altro pezzo della terra e anche la luna ci colpirà tra pochissimo si probabilmente la sua orbita sta decadendo piano piano perché è instabile e quindi anche questa luna probabilmente finirà per colpire la terra che continua ad essere così calda che perde pezzi e perde gas e atmosfera dicevo intorno ai giganti gassosi è pieno di lune e in intorno ad alcuni ci sono anche gli anelli e tutti questi anelli probabilmente mini lune si sono formate proprio così una luna si era avvicinata troppo è stata fatta completamente a pezzi e poi tutti i vari detriti e pezzi sono rimasti come mini lune e come anelli quindi anche in caso di saturno potrebbe essere successo qualcosa del genere ma in generale per i giganti gassosi è abbastanza ordinario e sì la gravità di giove ha lanciato temporaneamente avete visto che figata la luna è stata lanciata via dalla gravità di giove temporaneamente poi la terra l'ha ripresa intorno a sé poco dopo e sono ancora insieme una love story tenerissima ma maledizione non siamo ancora riusciti del tutto a distruggere la terra ci speravo la terra è molto più resistente di quello che pensavo allora vediamo se c'è qualche domanda nel frattempo rispondere Alex Montana chiede cosa ne pensi dell'asteroide che colpirà la terra a breve non c'è alcun asteroide che colpirà la terra a breve ma il giorno in cui arriverà il famoso passerà il famoso asteroide cioè il 29 aprile se mi ricordo bene farò una diretta quindi tutta la sera aspetteremo la fine del mondo insieme e faremo magari una diretta per simulare impatti di asteroidi sulla terra proprio il giorno in cui tutti si aspettano l'asteroide che colpisce la terra la terra intanto continua ad essere qui ci sono frammenti ma continua a esistere continua a non riuscire a distruggere la terra sta perdendo pezzi ma non ha sufficienza per i miei gusti dai fammi cliccare sulla terra continua a perdere pezzi di gas e atmosfera perché è molto calda non riesco a cliccare sulla terra vabbè comunque insomma la terra se la sta passando abbastanza male ma non siamo riusciti a distruggerla come speravo quindi cosa possiamo fare facciamo così facciamo una nuova simulazione questa volta facciamola con il sole e vediamo cosa succederebbe se avvicinassimo la terra molto di più al sole quindi prendiamo il nostro bel sole mettiamolo qui ok sole e proviamo a metterci la terra molto vicino quindi vediamo anzi facciamo qualcosa di un pochino più realistico just for fun quindi vediamo in un contesto realistico quindi abbiamo qui il nostro sistema solare per benino e sostituiamo mercurio con la terra e vediamo che succede se la terra fosse nell'esatta posizione dove si trova mercurio quindi vediamo qui la distanza di mercurio dal sole è di una quarantina di milioni di chilometri se andiamo su mercurio lo possiamo sostituire direttamente facciamo così sostituisce oggetto con la terra tada ok e ora la terra si trova nell'orbita esatta in cui si trova mercurio normalmente c'è un'altra terra 2.0 che vabbè insomma è lì e la lasciamo lì però notate l'orbita di mercurio è anche un pochino inclinata è molto più ellitica quindi la differenza tra il punto più vicino e il punto più lontano della orbita rispetto al sole è molto più grande rispetto alla differenza stessa nell'orbita della terra anche la terra ha dei momenti in cui è più vicina e più lontana dal sole ma la differenza è più piccola rispetto all'orbita molto più ellitica di mercurio per cui qui si noterà molto di più lo sbalzo la differenza insomma tra il punto più vicino e più lontano intanto la temperatura di partenza è un tiepido 13,9 gradi si sta benino in media sulla terra non ci sono problemi ci sono i ghiacci c'è l'atmosfera insomma alla grande il sole è grande e grosso nel cielo e siamo pronti per una bella giornata vediamo acceleriamo un po' la nostra simulazione e vediamo che succede ok le temperature si lo so lo so sempre di mezzo 170 gradi 170 no ah 18 mi sembrava tra un comunque stanno piano piano salendo perché siamo molto vicini al sole dubito che questa cosa farà distruggere la terra però di sicuro gli oceni non se la caveranno alla grande se tutto va bene potremmo aver trasformato la terra in una un po' una cometa vediamo temperature comunque continuano a salire e la terra continua a girare nella sua orbita intorno al sole ovviamente lo sbalzo non sarebbe immediato per cui sì sulla terra di sicuro chiunque vive in questo momento avrebbe grossi problemi di ultravioletti e probabilmente moriremo per cancro ma non non è che cambierebbe tutta l'improvviso subito da un momento all'altro ci vuole un po' di tempo perché comunque l'atmosfera deve assorbire tutto il calore distribuirlo ovunque per cui è possibile che insomma un po' di tempo per metterci al sicuro ce l'abbiamo intanto i ghiacci che vediamo quanti sono rimasti temperatura abbastanza alta 67 gradi qui vedete l'antartide è finita in pezzi ci sono soltanto dei frammenti rimasti dell'antartide del continente solido che c'è sotto i ghiacci nella parte alta invece non c'è più ghiaccio quasi per niente c'è un pochino al polo nord ma per il resto non sembra esserci quasi più ghiaccio e poi sì gli oceani inizieranno ad espandersi prima di evaporare a quel punto li vedremo sparire vediamo un pochino di ghiaccio che è quasi scomparso e non c'è più ok non abbiamo più ghiacci sulla terra che è successo nel passato ci sono stati dei momenti in cui non c'era ghiaccio durante l'estate né al polo nord né al polo sud i momenti in cui c'è ghiaccio sulla terra li chiamiamo glaciali nei momenti in cui non c'è ghiaccio non sono glaciali siamo ora siamo in un periodo siamo comunque dentro un'epoca glaciale nel senso più grande che si chiama quaternario ed è un momento glaciale perché c'è ghiaccio permanente durante l'inverno al polo nord e al polo sud è un questo momento dico nella realtà allora gli oceni vedo che beh si la passano abbastanza bene insomma non si sono ancora iniziate a espandere drasticamente ma non mancherà molto sicuro ok aumentiamo la temperatura è già sopra i 100 gradi celsius sopra i 140 150 poveri orsi polari sì beh orsi polari e tutti gli altri animali e creature persino batteri che vivono in quelle zone vanessa cenzi a proposito di calore non vedo l'ora di uscire nella spiaggia di fronte a casa con le amiche intanto ho finito di trascrivere slide lunghissime beh bene un po' tutti guarda anche a me manca di sicuro appena potrò uscire pioverà di continuo a parte che ora già piove ma vabbè vediamo come è messa la terra in questo momento eccoci qua gli oceani hanno iniziato a evaporarsi e le prime differenze si vedono sulle coste quindi questa queste erano tutte zone dove una volta c'era l'acqua che ora non c'è più l'Europa pure probabilmente vediamo se abbiamo beccato l'Europa ancora sul lato notturno forse ora sì eh sì ok sì il Mediterraneo si sta piano piano sciogliando non c'è più il Treno e l'Adriatico scusate però ancora non abbiamo granché distrutto la terra ma comunque sono abbastanza soddisfatto eccolo qua l'Italia con il Mediterraneo che piano piano sta sparendo c'era stato davvero davvero un momento nella storia della terra circa 600.000 anni fa in cui il Mediterraneo ha subito una diminuzione molto rapida e drastica della quantità di acqua una siccità pazzesca ma più che altro l'intero bacino era rimasto chiuso si era drenato quindi c'è stato davvero un momento in cui potevate attraversare pezzi del Mediterraneo così a piedi come in questo momento 600.000 anni fa uno dei momenti più da paura per le specie che insomma i nostri antenati i primi erectus e appunto stiamo perdendo completamente gli oceani della terra rapido vi faccio notare che siamo nel 2020 per cui se c'è un anno in cui poteva succedere tutto questo anche nelle simulazioni è ovviamente nel 2020 siamo a Natale però e siamo al 2021 finalmente le cose andranno meglio no siamo a 190 gradi celsius e continuano a salire piano piano le temperature comunque insomma questo è per darvi un'idea che anche posizionando la terra vicino al sole più che altro abbiamo completamente ovviamente reso la terra quasi sterile e le temperature continueranno ad alzarsi e la terra fondamentalmente perderà tutti i suoi oceani nello spazio molto piano questa cosa durerà un bel po' però comunque la terra rimarrà completamente priva di oceani a questa distanza dal sole però possiamo fare di meglio perché possiamo avvicinare la terra e in questo momento quindi la terra è a una quarantina di milioni di chilometri ma se noi andiamo su movimento e vediamo la distanza vediamo la dove sono dove sono eccoci qui diciamo se mi ha distanza al pericentro e a pocento va diminuiamola ecco qua in questo momento la terra finirà per sfiorare il sole di pochissimo e quindi dovremo riuscire a farla fuori in questo momento abbiamo simulato un comportamento molto più tipico delle comete che finiscono per sfiorare il sole e si a questo punto la terra cadrà verso il sole diventerà sempre più calda il sole diventerà sempre più grosso anche se abbiamo già perso buona parte del pacifico togliamo le etichette nel frattempo così ci godiamo lo spettacolo direttamente senza interruzione eccolo lì il sole si sta avvicinando sempre di più gli oceani non ci sono più a questo punto salvo qualche pozzanghera ma spariscono molto velocemente la temperatura stale ed è più di 5000 gradi celsius e non c'è più la terra doveva diminuire speravo che in realtà si frammentasse e uscisse dall'altra parte ma no niente niente del genere purtroppo non siamo riusciti a farla avvicinare abbastanza ma proviamo di nuovo mettendo la terra molto più vicina mettiamola più o meno qui vediamo che succede in orbita niente sparita mettiamola qui ah no forse è rimasta forse è rimasta forse perché non vedo le visualizzazioni del delle orbite si oh sono rimaste abbiamo due terre perfetto allora diminuiamo un pochino e vediamo dove sono eccoli qua abbiamo una terra qui vicino a 1100 gradi celsius che vedete come se la sta cavando bene e poi una seconda terra un pochino più lontana che è già a 300 gradi celsius ma insomma almeno non sta letteralmente prendendo fuoco sotto il sole come questa e pensare che ci sono davvero pianeti del genere che abbiamo trovato là fuori ci sono pianeti che hanno temperature anche sopra 4000 gradi celsius dove le temperature sono così alte che le piogge per esempio sono di titanio e non solo silicio che finisce nel lato dell'atmosfera poi si condensa quando ricade formando delle lunghissime schegge anche di chilometri di vetro e quindi piove vetro profuso ad altissime temperature è titanio che wow giusto tutta l'atmosfera della terra ovviamente è andata ora è circondata solo da una nube incandescente di ioni e probabilmente finirà appunto distrutta piano piano in cenerità c'è un pochino sembra esserci un pezzo oh l'antartide guarda lì ok qui sembra esserci un pochino di spazio rimasto quindi vi consiglio se succederà davvero di andare che ci fa come mai la Siberia è quasi protetta questo è un problema della simulazione ma comunque insomma a quanto pare in questa simulazione se andate in Kamchatka qui beh la potete ancora cavare la grande vedo del verde lì quindi andate in nord della Russia la Russia in qualche modo ce la fa sempre non ce la fa Napoleone Hitler non ce la fa neanche il sole stesso a quanto pare riesce a distruggere la Russia fantastico vabbè non so quanto durerà in realtà ma probabilmente comunque tra poco dovremmo vedere la tappezzi la terra vabbè solo per divertimento vediamo se acceleriamo i tempi la terra riusciamo a distruggerla sì le temperature sono sopra 2000 gradi celsius ormai neanche la Russia e la Siberia ce la fanno più e quindi direi che sì siamo riusciti nel nostro intento di almeno trasformare la terra in una palla calda di lava dunque provando qualcos'altro c'è un'altra cosa che volevo divertirmi a fare per vedere se riusciamo a distruggere la terra cosa succederebbe se la luna anzi no facciamo così se Giove fosse un'altra stella potrebbe distruggere la terra questa è una simulazione che in realtà vorrei fare a parte per cui vediamo un pochino proviamo e poi dopo magari una volta la facciamo come una simulazione se anzi facciamolo direttamente come una simulazione se magari una volta se vi piace ditemelo nei commenti magari uno dei martedì prossimi proviamo a vedere cosa succederebbe all'intero sistema solare se Giove diventasse davvero una stella quindi questo ce lo teniamo per un'altra volta e proviamo qualcosa di più drastico trasformiamo la luna vicino aggiungiamo la luna anzi in realtà non ci serve tutto il sistema solare per quello che voglio fare e quindi torniamo indietro facciamo una nuova simulazione facciamo solo la terra così almeno il computer è libero cioè il programma è libero di simulare solo un pianeta non c'è bisogno di simulare tutto quanto al sistema solare per quello che ci serve e può dedicarci più potenza e accuratezza e aggiungiamo la luna ma cosa succederebbe eccola lì quanto è lontana la luna tutte le volte mi fa impressione perché sembra così vicina nel cielo capito invece no è lontanissima sono quasi 400.000 km allora se siamo cioè intorno ai 400 dipende da quanto è vicino a volte più vicino a volte più lontano se sostituiamo la luna con un altro oggetto cosa succederebbe e proviamola a sostituirla sostituisci oggetto con un buco nero ok quindi i buchi neri ecco lì qui e sostituiamo la terra con un buco nero della massa del sole sostituisci e non c'è più un'orbita intorno alla terra e la terra è stata ah no è stata lanciata via ok non abbiamo distrutto la terra semplicemente è andata via allora io volevo farlo con le buone volevo trasformare la luna direttamente in orbita ma a quanto pare non funziona quindi facciamo mettiamo direttamente la terra e aggiungiamo un buco nero a forza nelle vicinanze quindi prendiamo un buco nero di una massa solare e mettiamolo sì in orbita anche se non starebbe mai in orbita ovviamente perché ha la massa dell'intero sole però mettiamola a più o meno la distanza della luna quindi circa 400.000 km aspetta prima sì devo diminuire moltissimo il tempo di reazione del programma e vai fino a millisecondi ok siamo a 42 50 100.000 e più o meno qui dovrebbe andare bene qui 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 ok abbiamo un buco nero qui nelle vicinanze vediamo come è zoomato da piccolo eccolo qui questo è il nostro buco nero cosa succederebbe alla terra quindi riusciamo a distruggerla finirebbe ovviamente in orbita probabilmente intorno dipende molto da che velocità si incontra non è detto che finisca per forza in orbita ma proviamo ok e sì dovrebbe iniziare a muoversi uno verso l'altro vediamo che succede sì ok ok la terra sta arrivando molto velocemente e interi pezzi della terra si stanno apprendendo ok stiamo riuscendo a fare pezzi della terra la gravità è così alta che interi pezzi della terra si staccano per via della dell'effetto di marea e come vi dicevo quando succedono queste cose viene spaghitificato il pianeta quindi si rompe da entrambi i lati e ora dovrebbe arrivare intorno al buco nero diminuiamo diminuiamo no 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 troppo veloce ok abbiamo soltanto un anello intorno la velocità a cui arrivano gli oggetti dipende anche dalla loro massa e l'accelerazione che subiscono quindi in questo caso la terra è arrivata molto veloce vediamo questo oggetto che è grande tra l'altro solo 3 km sta facendo sparire tutta la massa della terra come se fosse niente pochi frammenti che sono sopravvissuti sono stati lanciati via quasi nessuno è finito in orbita e stanno scappando dal buco nero però sì siamo finalmente riusciti a distruggere la terra ci è voluto un buco nero per riuscire a farlo ma ehi siamo riusciti a farlo proviamo a aggiungere la terra di nuovo vediamo se riusciamo a vedere un pochino meglio quello che succede vediamo aggiungiamola in orbita qui in un'orbita tranquillissima vicino a un buco nero ora di suo i buchi neri non hanno niente che fa pezzi in qualche modo in maniera assurda un oggetto cioè non è perché è un buco nero che fa questo è semplicemente perché è un oggetto estremamente massiccio quindi è più quello se sostituiamo il sole con un buco nero come magari una simulazione la facciamo non succede niente di strano non è che il sistema solare improvvisamente diventa un un disco di accrescimento solo perché c'è un buco nero pezzi si stanno staccando la temperatura sta arrivando a livelli assurdi di nuovo perché non mi dice dai dimmi quant'è la niente ormai è circondata dal plasma fammi cliccare oh eccoci le temperature sono intorno a 100 6 18.000 6 18.000 gradi ok non così tanto però stiamo piano piano facendo pensi la terra con un buco nero nelle vicinanze io sono molto orgoglioso di tutto ciò di sicuro gli astrofili e astrofilis gli astrofisici sarebbero molto contenti perché avere un buco nero così vicino ti permetterebbe di studiarlo molto meglio molto da vicino non sarebbe il massimo per granché studi cioè per molto a lungo però insomma sul corto termine di sicuro sarebbe divertente questo è quello che dicevo che capiterebbe con un disco di accrescimento semplicemente la materia si accumula intorno ai buchi neri a un buco nero e noi quello che vediamo da lontano è questo quindi se vi ricordate la foto la prima foto di un buco nero era qualcosa del genere il buco nero era al centro e c'era della luce intorno che veniva appunto da quello che il buco nero stava mangiando che in quel caso erano stelle comunque mentre sto guardando il buco nero fare a pezzi la terra vi ricordo che se vi piacciono i buchi neri questo venerdì con tutti voi di Patreon faccio un Netflix party in cui guardiamo insieme a Interstellar per cui se vi piacerebbe vedere insieme a me Interstellar con una chat in comune in cui potete farmi domande e vi rispondo in diretta nella chat di Netflix cosa succede nel film e quali sono le cose più vere eccetera beh questo è il momento giusto andate su Patreon trovate sotto in descrizione il link e lì potete trovare tutto quanto e potete iscrivervi insomma a Patreon così prima di venerdì ce l'avete domani invece c'è il lancio della SpaceX incrociamo le dita e non venga rimandato quindi domani sera ci vediamo per guardare insieme il lancio della SpaceX ma venerdì appunto c'è la serata speciale per goderci il lancio cioè scusate Interstellar per cui se siete su Patreon tanto amore vedremo insieme Interstellar questo è solo l'inizio perché dopo mi piacerebbe vedere anche Alien e altri film di fantascienza con voi insomma quelli che riusciamo a trovare che mi suggerite anche la terra nel frattempo continua a creare una zona bellissima intorno al sole le temperature qui fluttuano un botto al sole scusate al buco nero questi sono tutti i frammenti che sono stati lanciati intorno e direi che somiglia moltissimo alla copertina potrebbe essere tipo la copertina di un disco degli anni 70 un po' psichedelico un po' qualcosa del genere poi con tutti i colori sembra quasi un pochino un fascio di luce tra un prisma stile Pink Floyd mi piace mi piace mi piace ah un altro frammento beh siamo riusciti a fare sicuramente un bel spettacolo di luce Lorenzo Argenti quindi chi non è iscritto a Patreon o a Netflix non può partecipare purtroppo no cerco di fare le cose un po' per tutti quindi ho fatto la recensione anche direttamente per voi per chi vuole vederla qui sul canale però appunto cerco per chi è su Patreon questa intera serie in cui guardiamo film di fantascienza insieme sarà solo su Patreon e sì allora proviamo a fare un'altra cosa quindi abbiamo distrutto la terra con un buco nero ma c'è un'altra cosa che possiamo fare con cui divertirci abbiamo visto che quando si parla di collisioni dipende molto dalla massa ma dipende anche dalla velocità quindi proviamo a distruggerla con un altro gemello cattivo della terra immaginiamo se ci fosse un'altra terra che sta per colpire la terra vediamo la mettiamola prima di tutto mettiamola in orbita vediamo se riusciamo a distruggere insieme mettendola più o meno all'orbita alla distanza a cui sono presenti i satelliti quindi i satelliti già stazionari intorno alla terra sono intorno a 35 mila chilometri dalla terra facciamo qui ok ci sono due terre ma there can be only one come i migliori casi dei Highlander e vediamo se di queste terre sopravvive almeno una e si sono già incontrate da vicinissimo eee collisione sembra wow sembra qualcosa di molto tipo celebrity celebrity deathmatch qualcuno di voi se lo ricorda era cruentissimo pezzi di braccia spaccate insomma la mia infanzia abbiamo creato una bella pioggia di deathmatch in questo caso sono curioso se è sopravvissuto un pezzo della terra vedo un pezzo grosso qui di 6300 chilometri quindi una della terra ce l'ha fatta eeeh non siamo riusciti a distruggere abbiamo creato una terra che è metà di una terra normale facendo collidire due intere quindi eeeh più o meno credo che un po' crescerà perché si stanno aggiungendo pezzi ma non credo moltissimo le temperature sono di 9-10 mila gradi celsius pensiero pazzo adrian se posso permettermi un consiglio c'è l'opzione per avere una luminosità uniforme sul pianeta in modo da evitare delle zone di ombre e riuscire a vedere l'intero pianeta illuminato ah si hai ragione beh va bene insomma in questo caso eeeh non fa molta differenza di solito lo lascio con le zone d'ombre semplicemente per vedere eeeh qualcosa per avere un effetto più realistico simone marcola dovresti metterci vicino una stella neutroni o una manietar hai assolutamente ragione anche quello potrebbe essere divertente di sicuro sarà un pochino più visibile rispetto alla alla distruzione con un buco nero tanto qui direi che l'effetto è stato ben visibile e chiaro siamo riusciti a trasformare la terra in un fuoco d'artificio allora proviamo con il tuo suggerimento vediamo cosa succede se aggiungiamo la terra vicino a una stella neutroni prima troviamoci una nostra stella neutroni è una delle più famose vediamo vediamo eccole qua queste sono varie pulsar che abbiamo la nostra galassia mettiamo questa che ha due volte la massa del sole in 13 chilometri appena 13 chilometri due volte la massa del sole è una temperatura sulla superficie di più di 220.000 circa 230.000 gradi celsius quindi abbastanza impressionante e notevole ora diminuiamo un pochino la rotazione di solito questi corpi ruotano incredibilmente veloce ruotano per esempio varie volte alcuni ruotano a 60-70 volte al secondo quando li abbiamo scoperti alcuni pensavano che fossero dei fari costruiti da civiltà liene da quanto erano incredibilmente precise queste stelle sono così precise nel modo in cui ruotano e lasciano dei fasci lunghissimi dai poli per questo si chiamano pulsar perché quei fasci sembrano pulsare dalla nostra prospettiva che rivaleggiano gli orologi atomici che gli orologi più precisi che abbiamo mai costruito sulla terra ora proviamo ad aggiungere la terra nelle vicinanze e vediamo che cosa succede guardate quanto è enorme la terra rispetto alla pulsa nonostante appunto la pulsa sia due volte la massa del sole e la terra è qua è ridicolo è incredibile vai allora proviamo mettiamola a 10.000 km e dovremmo vedere abbastanza distruzione da qui si si subito abbiamo trasformato l'intero pianeta in una nube calda fino a centinaia di gradi migliaia di gradi wow grazie hai avuto un'idea fantastica grazie di cuore Simone non ci avevo pensato però in effetti wow a parte che in realtà la cosa più bella sarebbe con una magnetar che però qui non ho visto se ci fossero delle magnetar nelle vicinanze di della terra eccetera i campi magnetici sono talmente intensi che cambierebbero la direzione della polarità dei singoli atomi per cui diventereste a presente tipo lo spruzzino con cui i lanci spruzzate per pulire i vetri beh una cosa così quindi tutti i vostri atomi diventerebbero vapore diventereste vapore semplicemente perché ogni singolo atomo cambierebbe polarità perché sono magnetizzati dalla magnetar e invece di stare attaccati dentro le molecole ognuno va per conto suo quindi semplicemente i vostri atomi direbbero basta ho abbastanza di stare dentro il tuo corpo sai che vado verso quella stella perché è un capo magnetico più forte quindi ogni singola molecola dentro di voi verrebbe smantellata insieme quindi non sentireste quasi niente probabilmente la terra vedo che c'è ancora un puntino chiamato terra qui dentro come fai a sopravvivere cosa sei zoom 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 ma mi sa che più di così non si vede niente beh direi che abbiamo abbastanza distrutto guarda una virgola o un puffo non so abbiamo distrutto abbastanza la terra vediamo se riusciamo a fare di meglio se aggiungiamo la terra facciamo così nuova simulazione e se aggiungessimo la terra vicino a battle juice quindi prendiamo battle juice eccola qui abbiamo fatto una stella molto piccola facciamo con una stella molto grande ah no ho sbagliato stella beh a questo punto facciamo con la stella più grande in assoluto uy scutti questa stella è la più grossa che conosciamo ha una massa di 8 volte quella del suolo 8 volte e mezza è un diametro da parte a parte di 7 unità astronomiche e mezza è così grande che se fosse nel sistema solare quindi sarebbe quasi alla distanza di Saturno più o meno tra Giove e Saturno qui comprenderebbe comunque tutto il sistema solare interno di Granuga ok questa è la stella più grossa che conosciamo e proviamo ad aggiungerci in orbita la terra dove sei dove sei eccoli succederebbe qualcosa di simile a quello che abbiamo visto probabilmente con 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 il sole la terra nelle vicinanze di un oggetto estremamente caldo si riscalda da fare schifo e poi verrebbe fatto a pezzi e anche in questo caso più o meno è quello che possiamo aspettarci però possiamo fare qualcosa di più bello secondo me di così eccola qui già si sta riscaldando tantissimo se ci giochiamo bene le carte possiamo provare a trasformare con la terra Uy Scuti in una nebulosa come fare? aha è vero è vero che abbiamo maltrattato un sacco la terra ma vediamo se riusciamo a prenderci la rivincita e se la terra può distruggere una stella la stella è molto più grossa la terra non ha molte chance ma se lanciamo la terra contro Uy Scuti e aumentiamo la velocità a cui si muove la terra vediamo intanto diminuiamo la velocità qui della nostra simulazione e poi aumentiamo la velocità della terra fino a una frazione della velocità della luce significativa quindi prendiamo la velocità della luce abbiamo 0,8 facciamo 0,9 0,9 la velocità della luce ora probabilmente già passerà da parte a parte quindi devo diminuire tantissimo questo ok più possibile proviamo ad aumentare piano 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 quanta attenzione è perché è veramente così veloce che se sbaglio anche di pochissimo non si vedrà niente ok ancora un pochino che velocità si sta muovendo ah ecco per questo infatti mi sembrava strano non l'ha presa no si l'ha presa l'ha presa 0,9 si sta muovendo a 15 km al secondo sembra strano proviamo no eh dovrebbe essere appunto 0,9 velocità della luce comunque vediamo se funziona ce la farà ce la farà ce la farà dai terra distruggi questa stella e questi erano fatti speciali offerti da quanti quanti soldi abbiamo e niente non ci siamo riusciti a distruggerle perché non siamo stati abbastanza veloci proviamo ad andare direttamente alla velocità della luce allora lancia oggetto abbiamo già lanciato no si eccolo qui proviamo ad aumentare la velocità della luce vai ah no cavolo ho preso male la mira mi sa che mancheremo eh sì ma abbiamo mancato completamente la stella non ti muovere ok riproviamo allora lanciamo la terra dove sei eccoci qua forse un po' troppo lontano tre volte la velocità della luce dai mi sa che passerà davanti no crociamoli dai dai terra distruggila vediamo 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 niente ah maledizione ora in realtà stavo cercando di capire i limiti del programma stesso in realtà un oggetto di 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 qualsiasi massa non riuscireste a muoverlo alla velocità della luce mai 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 in alcun modo quindi se anche dovesse riuscire l'energia che si porterebbe dietro sarebbe talmente alta che si farebbe completamente a pezzi tutto però proviamo a mettere al limite quindi facciamo a velocità stupidamente alta e infatti è passato oltre l'abbiamo mancato dobbiamo farlo da vicinissimo quindi ora lo sono preso sul personale quindi per di ora rimango visto con questa stella la voglio fare a pezzi vediamo mettiamo qui la terra dove sei qui ok e la nostra velocità velocità della luce ed è passata attraverso e niente ok prima o poi riuscirò a distruggerti con la terra ma per adesso hai vinto tu Y scutti giusto per sfizio proviamo comunque a distruggere lanciandoli contro qualcosa di più grosso tipo il sole ora il sole vi ho detto che è molto più piccolo come stella ma spesso è difficile capire quanto piccolo ed è così dove dove Y scutti si vede eccolo qua quella è la dimensione del sole e te lo qua guardate quanto è piccolo il sole rispetto a Y scutti un momento anche più vicino perché magari pensate la questione di prospettiva ma mettiamolo qui accanto il sole semplicemente è piccolissimo e quindi se mi sa che forse anche con il sole non so se riusciremo a fare granché ma proviamo comunque a lanciare il sole verso la direzione di Y scutti tada dai sole vendica il tuo pianeta fai vedere a questo bullo chi è che comanda davvero e mandiamolo a velocità abbastanza alta mandiamolo a una velocità della luce chissà se mancherà la stella ma insomma speriamo di no tata 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 io ce la farò io tifo molto per il sole perché insomma ci vivo intorno quindi ho tutto l'interesse per vedere il sole vincere in questa sfida e poi vivere intorno a una gigante tipo Y scutti non è così divertente anche perché in realtà dura pochissimo è vero che non è tutto quanto nella durata eccetera sono anche altre questioni però avere una stella come il sole anche se è più piccola spesso le dimensioni possono essere compensate dal fatto che la temperatura è più costante può farlo molto più a lungo quindi Y scutti per esempio è sì molto grande però dura molto poco forse tipo massimo pochi milioni di anni massimo massimo il sole sì è piccolo però in cambio può durare per 10 12 miliardi di anni le stelle nane rosse che sono le più piccole che sono là fuori possono vivere così tanto che durano più dell'età stessa dell'universo finora per cui insomma questa dimostrazione che le dimensioni non sono tutte non sono tutto ce la farà il nostro sole? dai colpisci no non lo mancare sì ce l'abbiamo fatta il sole ha colpito Y scutti causando una reazione wow gigantesca che forse non ha distrutto il pianeta ma abbiamo lanciato un'enorme quantità di gas caldissimo intorno quindi questo è molto figo allora in teoria quello che abbiamo scatenato intorno questo dovrebbe essere parte di una nebulosa che si creerà intorno per cui questi sono tutti strati di cui era composto il sole il sole non è fatto ovviamente di sassi è quello che vediamo sulla terra non ha lava non ha rocce il sole è fatto di plasma e quindi quello che viene lanciato intorno è il plasma è gas di idrogeno e elio più altre varie impurità porvere che è tutto questo che si è creato tutto intorno questo è il resto della supernova abbiamo creato una bolla enorme perché la temperatura la radiazione che è fuggita alla velocità della luce è molto più rapida della velocità a cui si espande il gas perché la luce ovviamente può andare alla velocità della luce il gas è fatto di materia quindi no ora essendo la luce dato che la luce si espansa così velocemente ha ionizzato ha riscaldato tutto il gas interstellare che c'è intorno e quindi è per quello che vediamo questo bagliore rosso bellissimo mentre il gas continua a espandersi piano piano e quella dovrebbe essere il resto di uy scuti che pare sia sopravvissuta ma comunque con la sua col suo calore dovrebbe continuare a ionizzare tutto questo gas per cui in teoria quello che vedremo dopo questo è una nebulosa bellissima dove c'era un tempo il sole e una stella che se ne va e la cosa bella è che là fuori abbiamo davvero davvero visto cose del genere abbiamo visto nebulose con una stella che se ne va lontano perché un tempo erano due insieme e quella che è rimasto ha creato una nebulosa ora siamo riusciti a fare quindi anche una nebulosa e più o meno il sole ha vendicato parzialmente almeno anche se queste sono più viscere del sole ha vendicato un pochino la terra però per finire poi dopo ci salutiamo cercherò di distruggere la terra utilizzando cose più piccole vediamo se in questa simulazione funziona forse è una delle cose che hanno tolto in realtà perché so che molti lo facevano un tempo quindi può essere che non ci sia più come opzione comunque proviamo a distruggere la terra con vari oggetti qui vedete che hanno alcuni tipi di oggetti come una palla da basket una palla da calcio quello con cui lo voglio distruggere io e una cabina da polizia una normalissima cabina da polizia ora mi direte perché una cabina da polizia ma niente così una cabina da polizia c'è niente di sospetto non è che è una macchina del tempo c'è una cabina della polizia c'è niente da vedere qui vediamo dov'è la nostra cabina eccola qui una normalissima cabina da polizia e proviamo a vedere se riusciamo a distruggere la terra con questa accelerandola ad alte velocità al momento la cabina è alta un metro e mezzo e si sta muovendo a tre chilometri e mezzo al secondo ma la possiamo accelerare si aspettiamo un pochino facciamola avvicinare un pochino di più ok e ok e ora che siamo vicini riusciamo magari a vedere di colpirla Simone Balduzzi con un'occhia 3310 di sicuro con un'occhia 3310 dovremmo riuscire a farcela ma comunque insomma vediamo se riusciamo a colpire la terra a 300 1000 km al secondo e si siamo riusciti a colpire la terra alla velocità della luce abbiamo lanciato in orbita un frammento della terra di circa 200 metri che è strano e il pianeta è ancora qui la terra è appena stata colpita da una cabina telefonica che si muove o da una cabina della polizia che si muove a la velocità della luce e ce l'ha fatta questa cosa è impossibile sappiate che è impossibile mi hanno tolto il giochino ma l'edizione un tempo si poteva fare allora proviamo di nuovo con una velocità molto più alta perché mi hanno proviamo con una banana lanciamo una banana contro la terra eccola qui e proviamo un'ultima volta se non funziona anche in questo caso troviamo qualcos'altro con cui divertirci per salutarci quindi abbiamo la nostra banana spaziale ho fatto diversi video tra l'altro sulle banane se siete nuovi potete andare a vederle sul canale in alcuni ho parlato della vita sessuale delle banane in altri ho parlato di come rilasciano radiazioni e anti-anti-materia quindi andate a curiosare cercando banane qui su Link for the Universe e ora noi proviamo ad avvicinarci alla distruzione della terra andando a mille volte la velocità della luce questo probabilmente qualcosa farà niente abbiamo mancato semplicemente la terra una banana che si trova ora in mezzo a nulla e la terra è completamente all'orizzonte c'è la terra ancora? c'è ancora il frammento che se n'è andato da prima sì la terra ce l'ha fatta la banana ha attraversato la terra? cosa? una banana ha attraversato il pianeta mille volte la velocità della luce e c'è ancora io dico no programma Universe Sandbox mi ribello a tutto la terra dovrebbe essere in frantumi Omero di qualcosa maledizione vabbè un tempo era cioè era un ton effetti si poteva fare maledizione da un ton giochino un tempo si poteva distruggere il pianeta con queste cose e si poteva anche alterare il clima ora non più quindi niente vabbè allora per vendicarmi facciamo così un'ultima cosa volevo fare se facciamo collidere la terra cioè se sulla terra ci fosse una vediamo giriamo la terra piano piano se sulla terra ci fosse un buco nero tipo che non so quelli del Cern di Ginevra no visto che se ne parlava qualche anno fa creano davvero davvero un buco nero dove è Ginevra è più o meno qui quindi cerchiamo di mettere un buco nero più o meno lì sulla superficie e vediamo cosa succederebbe ora diminuiamo tantissimo il tempo perché ovviamente vi potete immaginare cosa succederà ma noi proviamo lo stesso così almeno ci stiamo buttando per bene eccolo qua qui abbiamo provato un buco nero che è più vicino possibile alla terra vediamo se riusciamo a spostarlo manualmente modifica e sposta il buco nero fino a a Ginevra in alto più un basso ok eccolo qua tra l'altro se vi chiedete ma cosa fa Adrenal durante il giorno beh tipo cerca di distruggere la terra con i buchi neri e con cercando falle in programmi allora diamola qui no che palle orientarsi in questo gioco in 3d perché tutte le volte è un'illusione ottica sembra essere vicino invece no dai collabora con me gioco più o meno più o meno più o meno ok mi sa che molto meglio di così non so se riuscirò a fare però da sopra prendi e muove verso il basso la pazienza dai ok vabbè proviamo tanto quello che comunque sapete che non farà una grande differenza se è leggermente più vicino o leggermente più lontano la terra comunque finirà allo stesso modo spappolata quindi lasciamo così e rifacciamo partire la nostra animazione in millesimi di secondo ora vediamo quale parte del mondo viene distrutta per prima e molto veloce poco soddisfacente devo dire che hai avuto una grande idea con di sicuro con le stelle neutroni ci si diverte di più si vedono più viscere dei pianeti rispetto a questa ultimissima cosa che voglio provare poi davvero vi saluto proviamo a fare una classica cosa che è stata immaginata più e più volte nella fantascienza e vediamo se funziona proviamo se la luna cadesse sulla terra che è una cosa che anche diversi bambini mi hanno chiesto se davvero la luna cascherà sulla terra in qualche modo quindi proviamoci e vediamo di rispondere troviamo la luna aggiungiamo la luna direttamente diciamo così eccola luna lanciamola e si siamo quasi sopra l'italia quindi per l'ultimo saluto almeno almeno facciamo facciamo cadere la luna sopra l'italia vai come siamo romantici questa sera dove sull'italia beh dappertutto ma puntiamo verso il veneto anzi puntiamo sopra puntiamo sul trento così loro e le loro montagne e le loro caprete vai tiè ok sono stata anche troppo violenta scusate 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 non era mia intenzione mi è sfuggita la mano ma abbiamo ok ho colpito molto velocemente la terra aggiungiamo un'altra di luna quindi dopo un impatto notevole eccola qui la luna ma tanto sappiamo che non si distruggerà del tutto quindi proviamo ad aumentare la velocità a 10.000 100.000 km al secondo come attraverso ma in che senso ma perché mi fate le cose che attraversano gli oggetti io voglio distruzione e morte maledizione ok riproviamo luna qui velocità mettiamo mettiamo un movimento più contenuto 10.000 km al secondo e vediamo se ce la facciamo intanto grazie di cuore a Giacomo Quadrio che mi ringrazia per la compagnia per le serate e grazie a voi che mi fate compagnia nella chat vi assicuro che è altrettanto bello e piacevole passare il tempo con voi e siamo quasi sì ci siamo riusciti abbiamo staccato dei bei pezzi dalla terra probabilmente non distruggeremo neanche questa volta la terra del tutto però comunque somiglia molto all'impatto che abbiamo visto su Marte in realtà se la luna colpisse la terra la distruzione sarebbe abbastanza totale però per quanto riguarda la crosta non arriverebbe a distruggere buone parti del mantello del nucleo quindi l'effetto somiglia un po' a quello che abbiamo visto in maniera molto spettacolare con Marte vuol dire che sono abbastanza soddisfatto come finale rivedere la luna e la terra così in un eterno abbraccio a temperature folli perché siamo di sicuro a quasi un milione di gradi Celsius e con questo che sembra un bacio eterno della morte direi che possiamo avvicinarci alla fine vi ricordo che se vi piacciono i buchi neri questo venerdì per tutti quelli che sono su Patreon e potete iscrivervi qui sotto anche subito e oltre a sostenere il canale possiamo vedere insieme film e quindi guarderemo insieme Interstellar e commenteremo insieme in chat in Netflix Party tra l'altro per tutti quelli che sono su Patreon tra poco arriveranno anche i podcast per cui insomma potete divertirvi e sentire anche i miei podcast speciali che saranno di storia quindi varie storie nel pieghe della storia e sì saranno dei podcast speciali che poi rimarranno lì per cui insomma iscrivetevi e poi avete anche la soddisfazione tra l'altro di essere in un gruppo apposta in cui potete farmi domande durante il giorno e vi mando in anticipazione riguardo a cosa sto commentando per gli altri video e mi aiutate a scegliere i temi detto questo cosa possiamo altro fare per torturare la terra beh se volete vedermi mentre gioco a videogiochi c'è anche il mio Steam e potete spiarmi mentre gioco per conto mio o vedermi di solito morire male in Doom ed è Ammeba Anarchi sì com'era in inglese Anarchi Ammeba quindi se cercate Anarchi Ammeba su Steam dovreste trovarmi potete seguirmi lì e noi ci vediamo presto suggeritemi altri video di distruzione ora penso che lo farò uno dei prossimi sulla distruzione su cosa succederebbe se Giove diventasse una stella improvvisamente così parliamo un po' di fusione e vediamo cosa cosa succede nel sistema solare su quella scala e sì ci sentiamo presto per i prossimi video vi ricordo che domani ci vediamo per un lancio spaziale se non avete mai visto un lancio spaziale specialmente dalla SpaceX in cui il razzo poi atterra sulla superficie sarà molto figo e a proposito di cose belle poi dopo davvero vi saluto giovedì giovedì ci vediamo su il canale Cime di Rappa su Instagram ok sarò con Irene a far chiare sa parlare di scienza e femminismo e donne quindi se vi interessa quel tema e anche se non vi interessa ancora di più perché dovrebbe interessarvi tantissimo ci vediamo giovedì alle 6 sul suo Instagram quindi mi raccomando Cime di Rappa basta che scrivete C-I-M-D-R-P la trovate o cercate Irene Cime di Rappa su Instagram e trovate tutto e ci vediamo presto lì alle 6 e poi per tutto il resto insomma seguitemi e avrete tutte le informazioni ciao ciao anche da Omero e continuate a essere meravigliosi e ora io v'ho salutato ma in realtà devo ancora uscire dal programma quindi come sempre i finali a mezzo finale ho davvero qui ciao ciao